I prossimi cinque giorni saranno decisivi per decidere il futuro assetto della Camera di Commercio di Salerno dopo le dimissioni del presidente Guido Arzano all'indomani dell'approvazione del bilancio. L'incarico di traghettatore in questi caldi mesi estivi è toccato al consigliere anziano Antonio Beltotti, il quale ha convocato per mercoledì 2 settembre il consiglio camerale utile ad eleggere il nuovo presidente della Camera di Commercio di Salerno e la sua squadra che resteranno in carico un anno fino alla scadenza del mandato naturale prevista nel 2016. Mercoledì quindi la riunione dell'Assise con due differenti votazioni sarà chiamata a scegliere il nuovo presidente e i membri della nuova giunta. In quella data però la rosa degli incarichi dovrà essere già pronta e ufficiale per arrivare nel consiglio dedicato soltanto alla semplice elezione. Beltotti a tal proposito ha ascoltato in questi giorni i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria per capire quali sono le posizioni in merito ai possibili candidati. Le strategie degli ultimi giorni sembravano ruotare anche attorno alla doppia possibilità di accontentare con una presidenza a tempo le categorie di artigianato ed agricoltura che difficilmente potrebbero ambire la presidenza per 4 anni solitamente affidata a comparti come industria e commercio. Giorni decisivi quindi per decidere il futuro dell'ente camerale salernitano.